ed eccoci qui a presentare Armentaro Retail siamo qui con Giuseppe che intanto salutiamo e ringraziamo intanto Giuseppe vuoi ricordarci a chi si rivolge Armentaro Retail? Certo noi ci rivolgiamo ad attività commerciali che sia il piccolo negozietto il ristorante l'officina qualsiasi attività presente in zona che sia un negozio fisico o anche gli ambulanti quelli che fanno mercati in giro insomma basta che sia un'attività commerciale perfetto vuoi anche ricordarci le soluzioni che è in grado di offrire Armentaro Retail? Certo allora noi abbiamo dal registratore di cassa il sistema di punto cassa cassa automatica il POS e ovviamente abbiamo dei prodotti innovativi quali siano ad esempio un totem le bilance e molte attrezzature per locali commerciali e ristoranti come esempio la fettatrice il tritacarne insomma abbiamo una vasta varietà di di prodotti diciamo e di soluzioni e di soluzioni soprattutto soprattutto innovative bene esatto esatto infine Giuseppe perché scegliere Armentaro Retail? Allora eh innanzitutto è un'azienda storica perché mio papà ha iniziato a fare questo mestiere dal 1970 con le prime affettatrici le prime bilance e e soprattutto perché quello che garantiamo a parte la vendita del prodotto è il servizio e l'assistenza post vendita quindi ovviamente garantiamo che tutto quello che vendiamo lo possiamo sistemare e possiamo dare un servizio e un'assistenza a 360 gradi sui nostri prodotti benissimo quindi la tradizione che si sposa con l'innovazione grazie alla presenza di Giuseppe e soprattutto la garanzia di avere un post vendita presente esatto non gestisca alcuno di servizio bene lo ricordiamo per qualsiasi informazione potete fisicamente venire a trovare anche Armentano Retail vogliamo ricordare dove ci troviamo? Sì siamo in Biennale 66 a Ionadi di fronte al pasticcino. Benissimo così anche un caffè è offerto da Giuseppe. Esatto. Vi aspettiamo qui Armentano Retail. Ciao Giuseppe. Ciao buona giornata grazie Antonio.